Ciao ragazzi sono Kernan, benvenuti su Prophecy per questo nuovo video, finalmente un nuovo contenuto. Lo studio inizia a prendere forma, per chi non lo sapesse mi sono appena trasferito, ecco da dove arrivano tutte le difficoltà nella pubblicazione in quest'ultimo periodo. Io peraltro ho perso diverso tempo nel fare del trattamento acustico perché in questa stanza inizialmente c'era un riverbero terrificante. Non che sia sparito del tutto al 100%, c'è ancora da lavorarci però diciamo che il risultato è accettabile, riesco a registrare. Poi mi scuso ad ogni modo se la qualità audio non è ancora al top, fixerò. Prima di entrare nel vivo del video di quest'oggi, cercando di rispondere quindi alla domanda dopo un anno in cui abbiamo visto di tutte e di più con i prezzi delle schede video che hanno toccato il cielo per lunghi tratti dell'anno, era veramente proibitivo acquistare dei componenti per farsi un bel pc da gaming. Quindi rispondere alla domanda, adesso che le acque si sono un attimino calmate, compro o mi conviene aspettare? Vi volevo informare del fatto che abbiamo aperto il canale Telegram. Vi invito, anzi siete stra-invitati ad iscrivervi, pubblicheremo non solo offerte ma anche configurazioni tutte le settimane e cercheremo di essere molto attivi, quindi ci tengo tantissimo al fatto che vi iscriviate. Poi tra qualche giorno c'è anche l'Amazon Prime Day, quindi quale migliore occasione di questa? Ok, il quesito in questione diciamo che è sempre attuale quando si parla di hardware, soprattutto per chi è alle prime armi, per chi si sta affacciando adesso a questo mondo, si sta appassionando a questo mondo. Anche io inizialmente, la prima volta che mi sono andato a fare il mio primo pc gaming, il mio primo vero pc per giocare, prendere la decisione su quali componenti e quando acquistarli è stato un vero parto. La prima lista di componenti che avevo selezionato è diventata vecchia poi quando ho concretizzato l'acquisto. Quindi questa domanda è sempre attuale, soprattutto per chi è nuovo, e soprattutto in questo periodo, diciamo ultimamente, dove il cambio generazionale, generazionale tra virgolette perché poi non è sempre generazionale, ma comunque il cambio di alcuni componenti si è velocizzato di molto. Basta vedere ad esempio i processori, Intel cambia chipset, dische de matri, ma anche i processori nemmeno fossero cialde del caffè e AMD non è da meno. Vediamo ad esempio che i Ryzen sono stati refreshati, aggiornati, comunque è uscita una nuova serie nemmeno a distanza di un anno. Quindi si rischia sempre di comprare qualcosa che subito dopo è già vecchia, ok? È fatto così questo mondo e come dico sempre io, aspettare è la scelta migliore in ogni caso, ma anche la strategia perfetta per non acquistare mai. Perché se stiamo ad ascoltare tutte le voci relative alle novità che usciranno prossimamente sul mercato, ripeto ragazzi, finiamo per non acquistare mai. Detto questo ci sono poi realmente delle situazioni dove vale la pena aspettare perché da qui magari a uno o due mesi con gli stessi soldi compriamo dell'hardware nettamente migliore. Per rispondere in modo sensato alla domanda posta quest'oggi, come detto a luglio 2018, ovviamente occorre andare a vedere cosa ci aspetta nei prossimi mesi. Visto che di voci, di rumors ne sono uscite tantissime ultimamente, sia per quanto riguarda le schede video ma anche i processori. E partirei proprio da questi ultimi, visto che Intel ultimamente sta facendo trapelare informazioni, non volendo, ci mancherebbe, non volendo, nei documenti che pubblica, su un'ipotetica nuova line-up di CPU Coffee Lake. Parliamo sempre quindi di Coffee Lake, sono targati 9000, li state vedendo su schermo, quindi vanno dal 9000, 9100 al 9600K. Poi ci sono altri modelli, ma ci arriviamo in un secondo momento. Processori che fondamentalmente sono molto simili a quelli attuali, sia perché il processo produttivo è sempre a 14 nanometri, e anche le specifiche sono le stesse, stessa cache, stesso TDP, stesso numero di core e thread, ovviamente facendo un confronto con i relativi modelli attuali. Hanno delle frequenze di base leggermente maggiorate di 100-200 MHz, ma la sostanza fondamentalmente è quella. E poi, sempre su un altro documento, sono apparsi delle informazioni, dei riferimenti ad un ipotetico processore 8-core 16 thread, il famoso i9-9900K, che dovrebbe gioinare quindi la fascia mainstream, di cui parlano in tantissimi, e questa cosa è molto plausibile, perché allo stato attuale, alla fine, Intel non ha ancora pareggiato i conti sulla fascia mainstream, ripeto, con AMD, visto che AMD già con i primi Ryzen, il 1700, il 1700X, il 1800X, e poi con il 2700X, propone su questa fascia un processore 8-core 16 thread, mentre sappiamo che Intel, con la prima generazione Coffile, con l'8700K, propone al massimo un 6-core 12 thread. Quindi questa cosa ce l'aspettiamo oramai da un bel po' ed è molto probabile che avvenga. Il tutto, non poteva mancare, sarà accompagnato da un nuovo chipset Z390, anche in questo caso non ci si aspetta un grande salto in avanti rispetto a Z370. Capitolo, scheda e video, penso che sia il più interessante per molti di voi, anche qui veramente se ne sono sentite di tutti i colori, le voci oramai che corrono da tempo sono tante, e dicono più o meno tutte la stessa cosa, si parla di un lancio da parte di NVIDIA che ancora comunque non ha ufficializzato nulla, non è ancora uscito allo scoperto, comunque un lancio delle schede video di nuova generazione a fine estate, quindi sempre Q3, molto probabilmente fino agosto, poi insomma vedremo. Queste sono cose che potete leggere dappertutto, ormai da un po' sul web, relative alle nuove schede video della serie 11 o 1100, chiamatela come volete. Quindi con buona probabilità a fine estate vedremo uscire la 1180, la 1170 in un secondo momento, perché NVIDIA ci ha sempre abituato a questo, non è che lancia la line-up, l'inter-line-up nello stesso istante, in un secondo momento vedremo probabilmente la 1160 e così via, le schede di fascia inferiore. Detto ciò, fatta questa spicciola analisi, cosa faccio che Hernan... Vabbè, vi dico la mia ragazzi, ovviamente è una mia idea, ma credo che sia condivisibile. Allora, la risposta è molto banale, secondo me se voi state puntando ad un PC di fascia alta, quindi volete spendere dei bei soldini, vale la pena aspettare, soprattutto per puntare alle schede video di nuova generazione NVIDIA, perché se per quanto riguarda i processori abbiamo visto che molte cose non cambieranno, per quel che riguarda le schede video parliamo di una vera e propria nuova generazione, quindi ci aspettiamo un boost prestazionale comunque tangibile rispetto alla serie attuale. Anche per quanto riguarda i processori qualcuno potrebbe dire beh, ma esce l'innovia 9900K? Sì, è vero, ma comunque quella CPU sarà una CPU che strizzerà l'occhio davvero a chi ha delle esigenze dal punto di vista della produttività. Quindi non al videogiocatore puro, ma a chi deve lavorare col PC e poi ovviamente gioca. Comunque sarà possibile, sarà una bomba anche per il gaming quel processore. Dicevo, per quanto riguarda le schede video ci sarà un salto prestazionale, quindi secondo me vale la pena aspettare questi uno o due mesi, a quanto dicono, stare alla finestra e vedere un attimino cosa succede e nel mentre vedere anche cosa combina Intel. Soprattutto se state pensando di acquistare il top di gamma, ok? Io adesso, come adesso, ve lo dico francamente, una 1080 Ti non la prenderei in considerazione, salvo offerte assurde del caso. Se invece state puntando a tutt'altro, quindi a un processore di fascia più bassa, penso a tutti magari i ragazzi che è estate, hanno del tempo libero e vogliono godersi. Magari Fortnite, giochi di questo tipo, che sono giocabili tranquillamente con un PC non molto costoso, quindi spendendo 6, 700 euro, 800 euro. Se invece siete in questa situazione qui, secondo me potete acquistare tranquillamente. Sì, è vero, potreste aspettare una 1160, un'ipotetica 1160, ma comunque magari ci vogliono dei mesi ancora, 5 o 6 mesi per vederla sul mercato con la giusta disponibilità, al giusto prezzo, insomma in disponibilità, al giusto prezzo e fu così che la 1160 uscì prima della 1180. Quindi secondo me potete tranquillamente fare un PC, magari con la testa, con un buon processore che vi consenta anche un domani un upgrade tranquillo di scada video senza dover stravolgere la configurazione. A proposito, visto che ancora non abbiamo portato nessun tipo di build con l'i3 8100, visto che ce l'avete chiesto più e più volte, fatemi sapere se volete una sorta di video guida su configurazioni di fascia bassa, medio-bassa, visto che noi le abbiamo aggiornate, quelle vecchie che abbiamo pubblicato a suo tempo. Quindi iscriveteci un commento, fateci sapere se volete vedere questo video nei prossimi giorni. Ragazzi, da Kernan e lo studio nuovo è tutto, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Telegram e niente.